Siamo a vedere se c'è gente che vuole dare con noi Gesù Cristo. Io nella sua misericordia vorrei indicarci dove è perfetta Letizia. Chi è? Ci fai la carità, fratello. Siamo dei poveri frati che vanno in giro per l'amore delle anime. Ascoltaci, fratello, ti daremo modo di servire Gesù Cristo. Servi con noi, Gesù Cristo. Servi con noi, Gesù Cristo. Servi con noi, Gesù Cristo. Perché non vuoi servire con noi, Gesù Cristo? Servi con noi, Gesù Cristo. Ho detto di andare bene, bricconi, non disturbate la gente. Non disturbate la gente. Fratello, facci la carità. Fratello, ascoltaci, servi con noi, Gesù Cristo. Lo servo io, Gesù Cristo. Fuori di qui! Fuori, 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 fuori dai piedi! Fuori, fuori! Fuori, fuori! Ecco la mia carità. Voglio essere generosi, arrampellate e darvene quanto è più forse. Nodo a nulla. Ogni nulla del mio bastone naccherò. Prendi anche questo. A te che ne ha uno di me. Prendi. Prendi. E al te pensa la tua. E se ne volete ancora, tornate a disturbare la gente che ce ne sta in faccia. E se ne volete ancora.